Prendi una bambina che vive raccogliendo rifiuti nella discarica di Nairobi. Mandala a scuola e insegnale un lavoro. Insegnale l'arte della cucina italiana. Istruzione, amore e formazione. Ecco la nostra ricetta di felicità per darle un futuro migliore. Alice Italian Food Academy è la scuola di cucina italiana di Alice for Children in Kenya. Scopri di più su www.aliceforchildren.it Grazie per la visione!